Pista ciclabile ancora al buio, pali vandalizzati e linea in tilt che di fatto ha oscurato tre quarti del nastro stradale per runner e ciclisti che attraversa Macchitella. E anche stavolta non si tratta di cattiva manutenzione, anzi, solo negli ultimi tre mesi sono sei gli interventi di ripristino che la Ghelas ha effettuato per sostituire e riattivare gli impianti danneggiati. Ieri il problema però si è presentato di nuovo, un disagio che diversi cittadini hanno segnalato alla municipalizzata che questa mattina è intervenuta ancora una volta con una squadra sul posto per valutare le entità del guasto. I tecnici però hanno scoperto che di guasto non si trattava ancora una volta. L'intero impianto della pista ciclabile era andato di nuovo in cortocircuito a causa del danneggiamento reiterato e prolungato di diversi pali dell'illuminazione ad opera di vandali, che hanno colpito ripetutamente i punti luce fino a far uscire fuori le lampade dal loro alloggiamento. La zona è sempre la stessa, quella alle spalle della tensostruttura sportiva, un'area che purtroppo la sera si trasforma in una delle tante piazze di spaccio della città. Per questo motivo probabilmente la luce non è molto gradita ai frequentatori che hanno trovato gioco facile nel mettere fuori uso sistematicamente i lampioni, provocando di fatto un cortocircuito sull'intera linea. L'ennesimo danneggiamento che subisce la pista ciclabile abbiamo denunciato più volte questa situazione. Nel giro di qualche mese si parla addirittura del sesto o del settimo, abbiamo perso pure il conto e abbiamo deciso proprio stamattina con il responsabile i servizi di sostituire la tipologia di lampade, visto che vengono puntualmente danneggiate. I casi strano vengono danneggiate sempre la stessa zona e a quanto pare sempre dagli stessi ragazzi che avranno ottimi motivi per tenere al buio questa zona. Noi più che fare le denunce e sostituire le lampade non possiamo fare, poi chi di competenza dovrebbe intervenire. C'è anche un problema relativo alla linea di questa parte della pista ciclabile, perché è collegata anche alla linea di altre vie che possono rimanere al buio. Avete chiesto la separazione delle linee proprio per questo. Sì, il Comune di Gela ha presentato un progetto di finanziamento della pista ciclabile che prevede proprio una linea dedicata e un sistema a parte. È stato finanziato, stiamo aspettando che i lavori pubblici, nel momento in cui arriverà il finanziamento, provveda a sostituire tutto l'impianto con un impianto nuovo, quello oggetto di questo progetto di riqualificazione. Naturalmente noi nelle more continueremo a sistemare per quello che è possibile, anche modificando il tipo di lampada nell'attesa del nuovo progetto. Il problema degli atti vandalici continua purtroppo a essere diffuso in gran parte della città e così tutto si trasforma in un continuo rincorrere all'emergenza, come sottolinea lo stesso trainito. Sicuramente Gela c'è una situazione assurda, noi abbiamo la città, e ve ne accorgete, parlo anche da cittadino, in mano a se stessa, che non ha nessun tipo di controllo la sera, molte zone della città, qua siamo a Machitella, ma anche al centro storico, ci sono dei cortili abbandonati, anche lì abbiamo subito dei denneggiamenti delle lampade, vuol dire che la luce non piace. Grazie.